Simona Ventura, la terribile notizia sul compagno Giovanni Terzi. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Simona Ventura ha rilasciato un'entusiasmante intervista in esclusiva al Libero Quotidiano, svelando dettagli intimi e toccanti della sua vita. La celebre conduttrice, nota per la sua partecipazione a Ballando con le stelle, ha aperto il suo cuore, parlando non solo della sua esperienza sul palco, ma anche della difficile malattia che affligge il suo compagno, Giovanni Terzi. Il giornalista sta affrontando un periodo particolarmente delicato a causa di una patologia genetica che colpisce i polmoni. Simona, senza esitazioni, si è gettata anima e corpo nel sostegno al suo partner, affrontando insieme a lui questo percorso difficile. Nell'intervista, la Ventura ha confessato di non averci pensato due volte quando ha appreso della malattia di Terzi, decidendo di stargli accanto in ogni passo della battaglia. Il racconto della conduttrice ha sottolineato l'importanza del Servizio Sanitario Nazionale, spesso oggetto di critiche, ma che, secondo Simona, è un vero e proprio servizio pubblico meraviglioso. Ha voluto sottolineare la presenza di persone straordinarie, medici e ricercatori magnifici, che troppo spesso passano inosservate. Si parla sempre troppo poco di loro, ma meritano di essere lodati, ha affermato con convinzione. In questa intervista appassionante, Simona Ventura ha svelato un lato più intimo della sua vita, ma ha anche lanciato un messaggio forte e chiaro sul valore del sostegno e della gratitudine nei confronti di chi lavora nel settore sanitario. Un viaggio emozionante che lascia tutti noi con la curiosità di conoscere ancora di più e di riflettere sulla forza delle relazioni e sulla importanza di apprezzare ciò che spesso diamo per scontato. Che cosa riserverà il futuro per Simona e Giovanni? Lasciate le vostre ipotesi nei commenti, perché la vita, a volte, ci sorprende con storie che vanno oltre le aspettative.